Il rischio cardiovascolare globale Sono 4 e sono l'ipertensione arteriosa, l'ipercolesterolemia, il diabete e il fumo di sigarette A queste si aggiungono l'età e il sesso maschile Che fino a una certa età è sicuramente più sfavorito rispetto alle donne Perché le donne fino a 50 anni sono protette dagli estrogeni Dopo i 50 anni invece più o meno il rischio cardiovascolare tende a eguagliarsi nei due sessi Dall'insieme di questi fattori di rischio Una serie di studi epidemiologici internazionali in America, il Framingham, l'Europa, l'Euroscore E in Italia, il progetto CUORE hanno costruito degli algoritmi Che vengono chiamate carte del rischio Per cui combinando questi 4 differenti fattori di rischio È possibile calcolare il rischio cardiovascolare globale del nostro soggetto paziente che sia Perché in linea di massima diciamo che sommarsi di più fattori di rischio Aumenta il rischio in maniera logarittmica Quindi diciamo i soggetti che in base a questa combinazione di rischio Hanno un rischio basso possono stare relativamente tranquilli Quelli che hanno un rischio elevato o molto elevato Invece devono mettere in atto non soltanto quello che diciamo sempre La vita tranquilla, lo stile di vita, l'alimentazione corretta eccetera Ma molto spesso devono ricorrere anche all'uso di farmaci appropriati Da questo punto di vista però nell'ultima linea di guida della Società Europea di Cardiologia Sulla prevenzione del 2016 sono stati anche introdotti degli amplificatori di rischio E tra questi amplificatori di rischio c'è per esempio l'infiammazione Che può aversi in alcune malattie come il lupus ritmatoso, l'artitere romanoide eccetera Gli episodi flogistici influenzari per cui è raccomandata nei cardiopatici Soprattutto la vaccinazione annuale contro l'influenza E infine alcuni mediatori strumentali come per esempio quello più semplice La valutazione delle carotidi e il riscontro sulle carotidi per esempio di una piccola placca Che sa significare che già la terosclesi di quel soggetto c'è E che molto probabilmente se c'è sulle carotidi c'è anche sulle cronarie Quindi questo soggetto automaticamente scatta in una categoria di rischio molto più elevato Anche se apparentemente dalla combinazione dei primi fattori di rischio che abbiamo detto Potrebbe essere il rischio medio o basso addirittura Quando si parla di ipertensione arteriosa ed è più pericolosa la sistola la massima o la diastolica la minima? Fino a una ventina di anni fa si riteneva che tutte e due le pressioni fossero pericolose Anzi qualcuno riteneva che fosse più pericolosa la ipertensione di tipo diastolico Invece una serie di studi che sono stati successivamente hanno dimostrato che soprattutto è la pressione sistolica Che è più pericolosa perché può interessare in maniera importante il cuore determinando la cardiopatia vertensiva O il cervello determinando l'ictus ischemico o emorragico Da questo punto di vista bisogna dire che negli ultimi due anni sono uscite due importanti linee guida Nel 2017 quello dell'American College American Art Association Nel 2018 quello della società europea di cardiologia Sostanzialmente queste due linee guida di più quelle americane e un po' meno quelle europee Hanno cercato di focalizzare l'attenzione sul fatto che è meglio avere livelli di pressione sistolica più bassi Rispetto a quelli che erano indicati nelle precedenti linee guida Nelle precedenti linee guida americane ed europee il limite per parlare di ipertensione arteriosa era fissato a 140-90 Nelle linee guida americane addirittura il limite per parlare di ipertensione arteriosa è spostato a 130 mm di mercurio Però anche la società europea che sostanzialmente ha lasciato invariati questi limiti Quando poi si va a parlare del trattamento in realtà indica per tutte le categorie dei soggetti Compresi anche i soggetti di una certa età cioè che hanno più di 80 anni Ha abbassato i limiti della normalità per la pressione arteriosa se il trattamento è antipertensivo Tra virgolette è tollerato Cioè questo significa che mentre per i soggetti più giovani abbassare la pressione al di sotto di 120 mm di mercurio Può essere anche un fatto positivo Nelle persone che hanno età fino a 65 anni e soprattutto da 65 a 80 anni Sarebbe ideale abbassare la pressione sul limite più basso Però tenendo conto anche della situazione clinica Quindi ci possono essere pazienti che tollerano molto bene anche l'età avanzata una pressione di questo livello Mentre ci sono altri pazienti che non la tollerano bene Quindi per questi pazienti ci vuole un cut off superiore che può essere 140 O addirittura per alcuni anche 150 mm di mercurio L'altra novità che è venuta dalle linee guida è che preferibilmente bisogna cercare di Per semplificare la somministrazione delle compresse e delle pillole a questi pazienti Piuttosto che dare 2-3-4 pillole in un giorno Ricorre la cosiddetta polipil Cioè due principi nella stessa compressa O addirittura tre principi attivi nella stessa compressa In maniera da semplificare la modalità di assunzione E in questa maniera migliorare la compliance del paziente rispetto alla terapia Quindi diciamo il primo step può essere costituito dall'associazione di un'aceo inibitore o un sartano Insieme a un calcio antagonista o a un diuretico Il secondo step può essere costituito dall'associazione di tre principi Quindi l'aceo inibitore più il calcio antagonista più il diuretico Il terzo step per quei pazienti che hanno la cosiddetta ipertensione resistente Può essere rappresentato da mettere insieme tre di questi principi in una sola pillola Più aggiungo un'altra pillola che è rappresentata da un inibitore del sistema dei minerali corticoidi Come lo spirollattone Come si fa una corretta prevenzione cardiovascolare? Beh come dicevo prima una corretta prevenzione cardiovascolare innanzitutto È basata su un corretto stile di vita che ciascuno di noi dovrebbe seguire sin dalla nascita Quindi mantenersi con il peso corporeo ideale Cioè evitare di mangiare troppo che poi si diventa obesi L'obesità poi in alcuni soggetti che hanno la genetica non favorevole Cioè i figli o i nipoti o i diabetici Può anche trasformarsi nella maturità o nella senescenza Nella comparsa del diabete ben litro e tipo secondo Quindi mantenersi diciamo col peso corporeo ideale Fare attività fisica regolarmente almeno tre volte a settimana Tutti quanti E poi mangiare anche un'alimentazione corretta Evitando troppi grassi, troppo sale che sicuramente è deleterio per l'ipertensione arteriosa Cioè seguendo quello che comunemente viene detta la dieta mediterranea Che è anche molto ricca di frutta e verdura Che contiene vitamine e sostanze antiossidanti Che servono a prevenire la telosclerosi Che servono a prevenire la testa